Finalmente una sfida. Ha! E ti sembra giusto? Fate le valigie, gente. È già finita. Non mi puoi fermare. Bene. Ci siamo. Andrà benissimo. Preso. Funzionerà. Ne avevo bisogno. Posso sfruttarlo. Ora sì che ragioniamo. Mi sarà utile. Ciao, bellezza. Troppo facile. Vi ho preso. Chi è il prossimo? Pagliacce, ne volete ancora? Sono solo all'inizio. Mi sto solo scaldando. Sì. Un altro a terra. Continuano ad ammassarsi. Non mi sto divertendo. È imbarazzante. Non ci vorrà molto. Ora sono pronto. Andiamo. Basta con le gentilezze. Proviamoci ancora. Me ne occuperò io. Me ne occuperò io. Sì, sono pronto. Ok, ci penso io. Non ci metterò molto. Passo all'azione. Non sapranno cosa gli ha colpiti. Bene. Ora pensiamo a questo microbo. Consegna speciale. Avverte il potere dentro di me. La bestia è arrivata. Per te è finita. Su, fatti sotto. Sei pronto per questo? Fatti avanti, Ramolleto. Forza. Forza! Andiamo. Ti farò a pezzi. Sei mio. Sei il prossimo, verme. Voi idioti non imparate mai. Sono proprio qui. Fatti sotto. Il tuo tempo è finito. Senti il potere, baby. Addio. Niente può uccidermi. Pensi di potermi ferire? Voi non imparate mai. Non poteva che finire così. Eri senza speranza. Ma niente da fare. È finita. È finita. È finita. Inchinatevi. Troppo facile. Esatto. Ti ho fatto a pezzi. Niente può ferirmi.